Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. Lentamente il tempo volge al miglioramento. Tutta l'area mediterranea occidentale si libera dal fronte freddo e a suo posto giunge l'anticiclone delle Azzorre. Mentre ad oriente su tutto il nostro territorio, anche nella giornata odierna, insisteranno correnti fredde artiche e le temperature risulteranno ancora una volta sotto la media. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 21 aprile. Nuvolosità al mattino sulla Puglia, tempo soleggiato sulla Basilicata, ad eccezione di quella orientale. Nel pomeriggio ancora nuvolosità sparsa ma con assenza di fenomeni significativi. Tempo più stabile in serata ovunque. Per quanto riguarda le temperature, sia nei valori massimi che minimi, in aumento di 1-2 gradi. Soffieranno ancora venti moderati dai quadranti settentrionali e, per quanto riguarda i mari, l'Adriatico mosso, il Tirreno, l'Oionio poco mossi. Da oggi un nuovo servizio gratuito. Previsioni sul vostro telefono aggiungendo dall'app Telegram il canale M2One, Puglia e Basilicata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi vi proponiamo una foto che ritrae l'incantevole paesaggio verdeggiante delle piccole dolomiti lucane. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle email che vedete in sovripressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.